Saranno i disegni di 12 famosi fumettisti a rappresentare i mesi del 2019 nel nuovo calendario della Polizia di Stato. Dal 2001 il ricavato della vendita del calendario della Polizia è destinato a finanziare alcuni appelli umanitari dell'Unicef. Solo lo scorso anno la vendita dei calendari ha permesso di devolvere 117.000 euro al progetto Unicef Italia, emergenza bambini migranti. Quest'anno il ricavato della vendita sarà destinato a sostegno del progetto Yemen, teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo. Oltre 22,2 milioni di persone necessitano di assistenza immediata. L'Unicef si prefigge di raggiungere con i propri interventi 17,3 milioni di persone, tra cui 9,9 milioni di bambini, attraverso azioni che garantiscono l'accesso sicuro all'acqua. La prevenzione, la cura delle malattie killer più frequenti e il supporto psicosociale ai bambini e adolescenti attraverso percorsi di educazione. Anche quest'anno una quota del ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto dal Comitato Italiano per l'Unicef al Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato.